Musica Bailang Bakit hindi pwedeng Ay! Mali! Ano ang tawad Sa punong hindi pwedeng akyatin? Ano? Pwede yung nakatumba Kotaik Ui! 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 Iezie! Ipunah! Amo ma? Eto! Ayan ma, ayan! No, ayan e gomma gana! Ayan pa rin! Anong tawag sa su top malamig? Ano? E'y su top drink! Ok, ok, ok. Quino? friend, che andy? Ok, non è non è il progetto. i ragazzi non è il progetto! Anche qui, e allora, è il progetto troppo? O? Però o... Che c'è la chiesce della sua бабa per il suo padre? e di aanti a 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